Benvenuti sul mio canale, io sono Marco Macinelli, sono uno scrittore, ho 44 anni e qui troverete video riguardanti la scrittura, il self-publishing e l'editoria. Troverete tante cose utili che vi aiuteranno a diventare degli scrittori formidabili. Ci avete creduto? Non è vero niente. Non sarete mai degli scrittori formidabili se continuate a dar credito a tutte le cazzate che trovate in giro per il web. Non date retta a me, non date retta a nessuno. Guardate i prossimi video, troverete cose però molto interessanti.